Osservate più spesso le stelle. Quando avrete un peso nell'animo, guardate le stelle o l'azzurro del cielo. Quando vi sentirete tristi, quando vi offenderanno, quando qualcosa non vi riuscirà. Quando la tempesta si scatenerà nel vostro animo, uscite all'aria aperta e intrattenetevi da soli con il cielo. Allora la vostra anima troverà la quiete. Essere e non apparire. Costruire una disposizione di animo chiara e trasparente. Una percezione del mondo integrale. E coltivare con attenzione e in modo disinteressato il pensiero. Non fare nulla in modo approssimativo, senza persuasione, senza provare gusto per quel che stai facendo. Nell'approssimazione si può perdere la propria vita. Nell'approssimazione si può perdere la propria vita. Nell'approssimazione si può perdere la propria vita.